Sì, è del 2 marzo scorso la delibera di giunta comunale, la numero 43 con cui sono state deliberate appunto alcune importanti modifiche alla viabilità. Si tratta in tutto di 5 strade che coinvolgono anche delle arterie principali del centro abitato, insomma è una grossa responsabilità politica. È una responsabilità politica sicuramente, l'assumo pienamente non soltanto come sindaco ma l'assumiamo anche come amministrazione comunale nella sua interezza e speriamo ad un certo momento di trovare anche la collaborazione e la disponibilità dei cittadini a comprendere che gli interventi che sono stati diciamo così pensati e che saranno realizzati vanno nella direzione di risolvere problemi che sono dell'intera comunità di Taurisano. Dico questo perché la situazione la conosco benissimo, quando praticamente Viale Eroditalia venne realizzata rappresentava la circonvallazione del comune di Taurisano e quindi oltre Viale Eroditalia di insediamenti abitativi ce ne erano pochissimi. Nel corso degli anni Viale Eroditalia è diventata una strada urbana a tutti gli effetti perché gli edificati al di là di Viale Eroditalia sono numerosissimi e di una certa consistenza. Ed allora non essendo intervenuti per tempo perché io ero e sono convinto che la soluzione al problema traffico a Taurisano possa essere perseguita in maniera complessa, totale e razionale soltanto nel momento in cui ci si doterà di uno strumento urbanistico che va dal di là di quelle che sono le attuali previsioni del piano regolatore generale. Ecco perché alla fine del mio secondo mandato, sto parlando del 2010, si era previsto di procedere dopo l'adozione all'approvazione definita del piano regolatore generale all'affidamento dell'incarico per la redazione del Puggo. Sono passati dieci anni da allora, del Puggo praticamente non si sapeva, non si sa nulla, tranne ad aver ripreso il discorso proprio in questo periodo per cercare di arrivare a compimento nel corso di questo mandato. Però lasciamo da parte il Puggo perché è un discorso di prospettiva del quale poi parleremo anche in appositi incontri con la cittadinanza. Quindi non potendo aspettare la soluzione definitiva e generale si sta andando nella direzione di affrontare quelle situazioni che sono meritevole di essere considerate per una serie di motivi, almeno tre. Uno è quello della viabilità intesa in senso stretto, l'altro è quello del traffico inteso come intensità di veicoli che praticano diciamo così quelle strade e l'altro anche in termini di salute delle persone che ci abitano perché non ci possiamo assolutamente permettere di rendere determinate strade percorribili 24 ore su 24 da automezzi leggeri e pesanti che scaricano diciamo così delle particelle, dei particolati nell'atmosfera pericolosi anche per la salute umana. E allora le strade sulle quali noi interferremo sono via Martiri d'Otranto, viale Eroid Italia, via Matteotti e naturalmente anche una serie di viabilità collaterale nella quale praticamente bisogna interessarsi. Per quanto riguarda queste arterie fondamentali accadrà questo, che via Eroid Italia, quella che viene definita come circonvallazione, sarà resa a senso unico a scendere e a salire diciamo così da Corso Umberto verso via Matteotti, via Matteotti sarà a senso unico ad entrare in direzione sud, verso Acquarica in sostanza e via Martiri d'Otranto sarà a senso unico dal punto in cui interseca diciamo così via Matteotti ad uscire verso Corso Umberto I, il che significa che un automezzo che deve andare o nel centro abitato di Taurisano, in direzione Migiano e in direzione Casarano, adesso con la nuova sperimentazione percorrerà via alle Eroid Italia a salire, arriverà all'intersezione con via Matteotti, svolterà a sinistra o procederà a dritto per via Fermi se riterrà opportuno e invece chi viene dalla direzione di Migiano o dalla direzione di Casarano, quindi dal commissariato di pubblica sicurezza per intenderci, una volta percorso il tratto di via alle Eroid Italia tra Corso Mazzini e l'intersezione con via Matteotti procederà per via Matteotti e uscirà sulla via per Acquarica percorrendo interamente via Martiri d'Otranto. Diciamo che questa è l'idea generale che cercheremo di mettere in pratica. Sarà sperimentale, ti stavo dicendo, per il semplice fatto che noi abbiamo considerato insieme all'ufficio di Polizia Municipale che si è interessato, ha studiato la situazione, misurando anche quelle che sono le volumetrie di traffico giornaliero su quelle strade, abbiamo pensato che questa possa costituire la soluzione, l'ipotesi più vantaggiosa. Una volta messa in pratica si verificherà e se ci saranno delle modifiche da portare le apporteremo grazie anche ai contributi che gli abitanti, che i cittadini di Taurisano riterranno opportuno segnalare all'amministrazione comunale che li terrà appunto nel debito conto. Qui proprio nell'intersezione tra Corso Umberto I e via Salvo d'Acquisto, che tra l'altro sta nelle modifiche e quindi interverrà a senso unico, si legge anche che si punterà l'eliminazione dell'incrocio semaforico, quindi si verrà tolto il semaforo. Se la sperimentazione darà i risultati che noi speriamo possa dare, stiamo valutando anche la possibilità di eliminare quell'impianto semaforico. In che modo? Intanto con quei provvedimenti dei quali abbiamo già parlato prima. E poi rendendo a senso unico il tratto che attualmente di via Salvo d'Acquisto, che attualmente ha senso unico in uscita verso Corso Umberto, lo renderemo senso unico in entrata verso il campo sportivo, in maniera da canalizzare il traffico in modo più razionale. Questo, se tutto andrà per il verso giusto, potrebbe consentire l'eliminazione dell'impianto semaforico con i benefici che ne deriveranno. Naturalmente, qualunque tipo di intervento si faccia in maniera di traffico, i risultati sono sempre rapportati e proporzionati a quelli che saranno i comportamenti dei cittadini utenti. Quindi il nostro intendimento, per esempio, è evitare che su Viale Ero d'Italia ci siano macchine parcheggiate sui marciapiedi, impedendo che i marciapiedi vengano utilizzati in sicurezza dai piedoni. È chiaro, questo è fondamentale. Andremo nella direzione, come ti dicevo prima, di evitare stazionamento di automezzi, soprattutto pesanti, che scaricano in prossimità del semaforo gas non indifferenti e pericolosi per la salute. Insomma, sono una serie di considerazioni che, se andranno per il verso giusto, risolveranno un po' di problemi. Nella delibera, Sindaco, si legge che sono stati fatti dei rilievi da parte della Polizia locale. Queste modifiche vengono in base a delle segnalazioni che sono giunte a voi da parte di cittadini o comunque vi siete mossi in maniera unilaterale, diciamo in maniera tecnica? Un'amministrazione comunale, per quello che mi riguarda, almeno finché sarò Sindaco, non si muove mai in maniera unilaterale, a meno che non sia costretto a farlo. Ci siamo mossi anche sulla base di una serie di petizioni, ma storiche, perché io ricordo che c'erano segnalazioni dei cittadini circa le criticità, soprattutto per Viale Ero d'Italia, già diversi anni fa con raccolte di firme, segnalazioni al Sindaco, attenzionando i problemi dei quali abbiamo parlato poco anzi. E poi naturalmente come Sindaco sono stato contattato anche recentemente da una serie di persone che mi segnalavano questa esigenza e che hanno dimostrato di gradire l'intervento che l'amministrazione comunale sta facendo, apprezzando soprattutto il fatto che non si tratta di una soluzione definitiva, prendere o lasciare questa è, ma si tratta di una soluzione sperimentale e la sperimentazione naturalmente sarà verificata non soltanto dall'amministrazione comunale, dal Sindaco, dall'Ufficio di Polizia Municipale, ma saranno gli stessi cittadini a segnalare il permanere di eventuali criticità e si andrà nella direzione di accoglierle, nei limiti del possibile, in maniera che la soluzione alla fine possa essere il più condivisa possibile. Sindaco, un'ultima domanda. Sono numerose le segnalazioni che giungono riguardo alla presenza di buche sull'asfalto, sull'asfalto delle strade taurisanesi. Avete notizie se giungeranno ben presto dei finanziamenti? Allora, per quanto riguarda la viabilità interna, questo già lo sappiamo, non ci saranno specifiche e puntuali, diciamo così, possibilità di finanziamento, perché in sostanza il concetto dal quale parte l'autorità centrale, ma anche la Comunità Economica Europea è questo. La viabilità interna deve essere nella disponibilità e nella responsabilità dell'amministrazione locale. Praticamente l'amministrazione comunale dovrebbe utilizzare fondi propri di bilancio per sistemare la viabilità interna. Questo significa che le risorse vanno reperite nei limiti del possibile all'interno del bilancio comunale. Naturalmente, se ci saranno delle possibilità, saranno percorse, tanto è vero e te lo posso anticipare, che come sindaco mi sono già mostro nei confronti della Regione Puglia, chiedendo un contributo straordinario ed eccezionale di circa 400 mila euro per intervenire in materia di viabilità urbana. Credo che qualcosa ce la daranno, si sarà concessa, ma non ti so dire in che misura. Naturalmente, il modo per far sì che la viabilità interna venga, diciamo così, danneggiata il meno possibile, deve essere messo in conto e deve essere programmato dall'amministrazione comunale. Primo, in che modo? Nel momento in cui c'è la possibilità di collegarsi a determinati servizi dei quali la comunità dispone, mi riferisco per esempio al servizio della rete idrica, mi riferisco al servizio della rete fognante, mi riferisco al servizio della rete elettrica, a quello di telecom e quant'altro, è chiaro che i cittadini è opportuno che entrino o che entrassero nell'ordine di idee che i determinati adempimenti da parte loro, ossia le richieste di collegamento a questi servizi vanno fatte per tempo, prima che quella strada venga sistemata, perché farli dopo significa continuare ad avere strade dissestate anche nell'ipotesi in cui le stesse siano state assfaltate da poco. A questo proposito, il riferimento è soprattutto, anche perché arrivano segnalazioni puntuali da parte di Acquedotto Pugliese, alla utilizzazione, all'accesso al servizio di fogna nera. Nonostante il servizio di fogna nera a Taurisano copra, lo ricordo benissimo perché in sostanza è un servizio che fu realizzato e è stato realizzato nei primi dieci anni delle mie due amministrazioni, copra gran parte del territorio comunale, ci sono molte ma molte utenze che sono collegate alla rete idrica ma non risultano altrettanto collegate alla rete di fogna nera. E questo comporta una serie di problemi ambientali serissimi e gravissimi perché è inutile dirsi ecologisti o schierarsi in difesa, diciamo così, della esigenza di evitare che certi fenomeni abbiano a verificarsi se poi non si adottano i comportamenti necessari. Il collegamento alla fogna nera nel momento in cui si è collegati alla rete idrica è fondamentale ed è necessario. Il cittadino che non risulta collegato deve rendere conto per legge del motivo per il quale non è collegato e deve dimostrare nelle forme di legge il modo, le modalità attraverso le quali smaltisce i reflui urbani. Perché i reflui urbani non possono essere scaricati nel sottosuolo con pozzi neri a perdere ma anche nell'ipotesi in cui il pozzo nero non dovesse risultare a perdere bisogna dimostrare che cosa accade dei leguami che vengono, diciamo così, asportati da quel pozzo nero attenuto a stagna dove vanno a finire. Quindi sono una serie di adempimenti, una serie di provvedimenti previsti dalla legge ai quali i cittadini devono assolutamente ottemperare.